E' iniziata l'Iventus Bologna, su Prato per noi Savide Bernardi e Tommaso Tucci E pensare di portare a casa punti è un po' di sicuro Bello Ma come è possibile? Ma che scandalo ragazzi che scandalo Torna di nuovo Travento di Calabresi su Matuidi Che aveva anticipato il difensore Ma Ma Bologna per questi primi dieci minuti tutto sommato inculibrati Beh è partita fortissimo la Juve, ha fatto i primi cinque o sei minuti Veramente ha fatto un po' paura anche Ma Tucci Per un attimo ancora Diverza Tommaso 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 Diverza Diverza che si è fatto un po' sempre virare tv vira al meglio ci servica così sì poi c'è stata la carambola e la possibilità di dire e azione spettacolare ma no ti baci di Bala non cercano, Ronaldo era sul secondo palo no ma tu di Palla ancora in un'altra squadra e vai! Matuidi! 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 Bravo! Bellissimo! Senta quella! Bella! Ha fatto bene! Non ha tirato! Non ha tirato! Assolutamente no! No, assolutamente no! Chiama Cancelo! Controllo orientato! Preparo la conclusione! Che bello! Che fucilato! Ha calciato veramente molto bene, molto forte, è stato bravo il portiere! Fucilato! Sì! Sì! E va! Punteggio pieno! Andiamo! Sempre a punteggio pieno! E andiamo!